È in corso in tutto il territorio toscano e arriva in queste ore anche nel territorio aretino il percorso di confronto da parte della Regione Toscana con tutti gli operatori del settore per la riforma dei consultori. I consultori in Toscana sono 152, l'ostetrica è la figura più diffusa seguita dal ginecologo oltre a psicologi, assistenti sociali e altri professionisti. È con loro che la Regione Toscana ha avviato un percorso di confronto per potenziare questo servizio. Dobbiamo guardare al futuro e cercare di migliorare ulteriormente, di implementare, di analizzare punti di forza ma anche punti di debolezza, di mettere in relazione tutte le attività che sono connesse alla rete consultoriale. Penso sicuramente alla tutela della salute sessuale, riproduttiva, penso al percorso nascita, penso al percorso legato all'interruzione volontaria di gravidanza, alla contraccezione, a tanti altri aspetti che possono anche incrociare le attività di prevenzione o la presa in carico delle situazioni di disagio, soprattutto per quanto si può far riferimento al mondo giovanile. Per questi elementi, su questi elementi è in atto un confronto in tutte le aree vaste della Toscana, con i professionisti. La giunta regionale ha presentato una bozza di proposta e ora ne parliamo con i professionisti, con gli attori che stanno sul campo per recepire eventuali anche suggerimenti che possono migliorare il testo in modo da avere da qui all'estate una delibera da portare all'approvazione della giunta stessa. Tra le proposte c'è quella di garantire la presenza di personale non obiettore riguardo alle interruzioni di gravidanza volontarie, offrire mediazione per i migranti, potenziare la telemedicina e i teleconsulti e rivolgersi ai giovani con una specifica attività di prevenzione. L'intenzione della giunta regionale è quella di dare un ulteriore impulso ed efficacia ai consultori diventati punto di riferimento del servizio sanitario, in particolare delle fasce cosiddette vulnerabili della popolazione. È necessario dopo molti anni ritornare sul tema, fare un aggiustamento del tiro e soprattutto interessarsi delle politiche giovanili di tanti giovani che si possono e si rivolgono già ma che potranno sempre di più rivolgersi ai consultori per avere un supporto dal punto di vista non solo psicologico ma anche sociale. Ecco questo è il messaggio forse appunto più importante e l'attualità ci consegna, le cronache ci consegnano storie dove comunque ricordare che le agende sanitarie ci sono, che la sanità pubblica funziona, forse fa sempre bene. Sì, i consultori sono una parte pubblica del sistema, una parte irrinunciabile del sistema. Io avevo lanciato qualche mese fa una richiesta agli amministratori comunali di costituire una sinergia nella gestione delle marginalità e delle situazioni ad elevato impatto sociale. Il tavolo di lavoro ancora non è partito, sarebbe auspicabile che su questo si facesse molta attenzione in territori difficili come per esempio quello della provincia di Arezzo.